Dopo il milione di euro per i cartoni animati, la mancetta per il festival del cioccolato. Io penso che questa maggioranza fa fatica a individuare i veri problemi della nostra regione. Non la sanità, non i trasporti, non l'agricoltura, non i fondi che tornano indietro, non le risposte ai balneatori e alla costa, ma si risponde al contrario, elargendo delle vere e proprie mancette in questa occasione, sia pure agganciandoli a provvedimenti ben più seri, e infatti uno dei nostri emendamenti recita che quelle risorse, sia pure limitate, debbono tutte confluire rispetto al grave tema del dissesto idrogeologico. E da questo punto di vista vogliamo anche respingere le accuse del Presidente Marsilio, che parla in ragione delle argomentazioni che ha adoperato per giustificare il milione di euro per il festival dei cartoni animati, che questa regione ha bisogno, con iniziative come queste, di uscire dal proprio isolamento o dal proprio recinto chiuso, così ha dichiarato. Noi respingiamo fermamente queste parole del Presidente Marsilio, che evidentemente fa fatica a conoscere quali sono davvero i provvedimenti che servono alla nostra regione e quali sono davvero i problemi della nostra terra.